eccoci qua per la cinquantacinquesima puntata del rompi balle show allora ho deciso di creare un'azienda di telefonia per i cellulari ecco faremo gli smartphone non saranno smartphone qualsiasi no? avranno tutte le applicazioni che hanno i normali smartphone che voi tutti conoscete però ce ne saranno due che saranno spettacolari allora una è che quando lo smartphone derompe balle show il primo smartphone anzi il primo smartphone si chiamerà gnie 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 1 ecco la prima applicazione più importante è che quando si ricaricherà il cellulare bisognerà semplicemente fare una cosa banalissima andare in mezzo al campo e fare così gnie 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 g al 100% ma poi dopo un'altra cosa, un'altra particolarità è che lo smartphone da me prodotto si romperà il giorno dopo che scade la garanzia ma non è maleducato il nostro smartphone perché come tu lo accenderai quel giorno lì ti arriverà fuori un messaggio con su scritto bravo hai speso 1000 euro per il cellulare complimenti da oggi ho deciso di non funzionare più poi dopo apparirà sullo schermo una mia immagine sotto forma di cartone animato che ti farà un bel gesto dell'ombrello e poi dopo ti dirà entro 10 secondi questo smartphone si autodistruggerà così almeno tu sarai contento e felice per queste grandi innovazioni che il giorno dopo il giorno stesso anzi andrai a comprare il nuovo cellulare in 2 ecco ma poi dopo l'altra particolarità e che nella mia azienda saranno tutti contenti e tutti felici gli operai che lavoreranno perché al posto della macchinetta del caffè metterò delle bellissime macchinette che distribuiranno vino 50 centesimi un bicchiere di vino e tutti all'ải a lavorare a lavorare e con questo ciao a tutti buona giornata a tutti arrivederci alla cinquanta seiesima ed imperdibile puntata di Rompibale Show Olè, olè, olè i Rompibale Show Olè, olè, olè i Rompibale Show Olè, olè, olè i Rompibale Show Ciao